Salve a tutti, mi chiamo Antocino Volta, la mia rappresentazione generale. Sono candidato al Consiglio Comunale e al Consiglio di Municipalità Comero-Arenesco. La credo profondamente nel progetto del movimento, portato avanti da semplici cittadini, onesti e censurati, che ci mettono la propria faccia, perché è stupida la vecchia politica, corrotta e collusa, che ci ha tolto il futuro e anche la semplice speranza in un futuro migliore. Il nostro impegno sarà quello di cambiare la società, il nostro esempio e la nostra coerenza. E combatteremo sempre fin quando la parola onestà non diventerà normalità in questo Paese. E per ottenere questo, per ottenere questo, per ottenere questo faremo, vi chiediamo, sport e partecipazione, in quanto noi, anche da eletti, se lasciati da soli potremmo far poco per cambiare veramente, viceversa, insieme siamo davvero forti e possiamo, anzi dobbiamo, vincere questa guerra per cambiare questo Paese. Ok, grazie! Grazie!